Buongiorno a tutti e benvenuti su investire.biz, ben ritrovati come di consueto alla rubrica caffè e mercati. Un saluto come sempre da Riccardo Zago, buon inizio di settimana a tutti quanti e voglio ricordare come ogni inizio di settimana che alle ore 18 questa sera ci sarà il webinar del lunedì, in mia compagnia ci sarà Pietro Origlia, andremo come la settimana scorsa ad analizzare le azioni italiane più interessanti, attenzione perché ci sono delle opportunità veramente molto interessanti che dovremo andare ad analizzare, parleremo anche di alcuni hedge fund che stanno vendendo allo scoperto ben due titoli del mercato azionario italiano e non solo, andremo anche a commentare quelle che sono le aziende con i migliori dividendi, dividendi che verranno tra l'altro rilasciati a breve. Detto ciò vediamo come iscriversi al webinar di questa sera, scusatemi eccoci qui, andiamo nella sezione come sempre appuntamenti del sito, webinar del lunedì delle ore 18 ed eccoci qui, potete già iscrivervi, eccoci qui, evento come sempre gratuito e quindi vi aspettiamo stasera. Ricordo inoltre che mancano pochi giorni all'inizio del nuovo corso trading long e short sul mercato azionario italiano, già in tantissimi avete partecipato, il corso è al momento al 50% di sconto, quindi potete ancora usufruire della promozione fino all'inizio del corso, cioè nella giornata di giovedì pomeriggio. Detto ciò andiamo subito sulla piattaforma del broker Kimura Trading per aggiornare quelli che sono gli strumenti più interessanti, sto tenendo d'occhio questa settimana, anzi già quella passata stavamo tenendo d'occhio l'euro, euro che potrebbe apprezzarsi notevolmente un po' contro tutte le altre valute, abbiamo già preso posizione su euro franco, come scritto in Traders Club, da 1.04, il nostro primo obiettivo sono i massimi precedenti e l'obiettivo finale invece lo troviamo in area 1.06. Come potete vedere questo trend rialzista che stiamo visualizzando su time frame giornaliero sembra continuare con forza, vedete come le candele rialziste sono veramente molto molto importanti, quindi euro più forte del franco svizzero nelle ultime settimane può continuare a salire, è chiaro che una volta raggiunto un livello intermedio come questo, 1.05, si può valutare di chiudere parte della posizione e spostare quindi anche lo stop loss in pareggio. Andiamo a vedere anche un altro cross, qui stiamo parlando di euro gvp, siamo entrati long questa mattina da 0.84, 0.84.90 su quella che a mio avviso era una resistenza rotta con forza al rialzo e proprio in questi giorni i prezzi la stanno ritestando come supporto chiaramente, quindi questi livelli supportivi stanno funzionando abbastanza bene, è importante vedere quella che sarà la chiusura giornaliera. Un obiettivo primario lo troviamo sui massimi precedenti indicatoci anche dal nostro target indicator in area 0.85 e 75, mentre un obiettivo ben più ambizioso lo troviamo più in alto in area 0.87 e 20, sempre time frame giornaliero. Andiamo verso la conclusione della rubrica di quest'oggi perché dobbiamo sicuramente parlare di S&P 500, l'abbiamo analizzato nella rubrica caffè e mercati di venerdì, avevo dato due livelli sia per i trader conservativi che per i trader un po' più aggressivi, noi siamo entrati in mercato con obiettivo, siamo entrati qui all'incirca, con obiettivo 3.970, 3.975 con obiettivo 4.040, è esattamente il massimo che è stato toccato, lo vedete qui 4.040, 4.043, come dicevamo questa zona resistenziale poteva rispingere i prezzi verso il basso e infatti è proprio quello che è accaduto. Oggi quale livelli stiamo testando? Oggi stiamo testando il livello psicologico oltre che importante a livello tecnico dei 4.000 punti, bene una tenuta di questo livello con continui minimi via via crescenti potrebbe poi anche portare l'indice più importante al mondo a rompere con forza la zona resistenziale appena citata compresa tra 4.040 e 4.050, in quel caso potremo puntare anche ai 4.100, target price rialzista per i prossimi giorni per quanto riguarda S&P 500. Ragazzi io vi aspetto questa sera perché il webinar sarà veramente molto molto interessante, parleremo proprio degli hedge funds che stanno vedendo allo scoperto due titoli italiani e vedremo come sfruttare chiaramente queste informazioni in ottica operativa. Io con questo ho concluso, auguro una buona giornata e un buon trading a tutti. Grazie a tutti!